Musica Draghi annunce il ritorno delle zone gialle dal 26 aprile potranno riaprire Bar e ristoranti anche a cena ma all'aperto Intanto Acquaroli scrive le Marche un'altra settimana di zona arancione come da decreto Massimo Simonini il commissario nominato del governo per far partire i lavori di completamento della superstrada E78 Fano Grosseto Al via anche i cantieri per la statale 4 salari e la ferrovia Faiconara 8 Operazione antidroga dei carabinieri di Fano Sono arrestate 4 persone trovate in un appartamento, 150 grammi di cocaina e assegni Falsi positivi appesero Ricci tira dritto Abbiamo le scuole più sicure d'Italia e annuncia che la prossima settimana continuerà il monitoraggio con i tamponi rapidi Il comune di Fano torna ad assumere personale con 4 nuovi bandi La prova scritta sarà però online da casa ma i candidati saranno controllati da più telecam Trasporto eccezionale a Pesaro per consegnare le travi che andranno a coprire Il vecchio palazzetto dello sport e la struttura da 1900 posti a sedere avrà un tetto nuovo entro la fine del mese Presentato il cartellone degli eventi estivi fanesi manca la Fano dei Ceseri Passaggi Festival premia Roberto Vecchioni, Cesare Cremonini e il giornalista Altan liberato qualche giorno fa dalle prigioni turdi Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia Sul canale 17 le marche come da decreto rimarranno in zona arancione anche la prossima settimana Intanto oggi il premier Mario Draghi ha illustrato il percorso di ripartenza Dal 26 aprile tornano dunque le zone gialle, riaprono le scuole e le attività all'aperto Simona Zonghetti Riaperture, scostamento di bilancio e opere messe in cantiere Diverse le novità annunciate dal presidente del consiglio dei ministri Mario Draghi Durante la conferenza stampa tenuta oggi pomeriggio a Palazzo Chigi Dal 26 aprile torneranno le zone gialle e le scuole di ogni ordine grado Riapriranno completamente in presenza nelle zone gialla e arancione Dalla stessa data i ristoranti potranno aprire con i tavoli all'aperto anche la sera Dopodiché inizierà un percorso graduato Dal 15 maggio potranno riaprire le piscine all'aperto Dal 1 giugno le attività legate alle palestre e dal 1 luglio quelle fieristiche Al momento il coprifuoco resta alle ore 22 Il governo, ha detto il Premier, con questa decisione ha preso un rischio ragionato E fondato sui dati, il miglioramento della pandemia È un'opportunità straordinaria per l'economia e per la nostra vita sociale, ha detto Draghi Ma è fondamentale il rispetto scrupoloso delle norme anticontagio e dei protocolli di sicurezza Necessarie quindi le verifiche da parte delle istituzioni e delle forze dell'ordine I nuovi provvedimenti riguardano anche musei, teatri, cinema, spettacoli, eventi sportivi e stabilimenti termali Gli spostamenti invece saranno concessi tra regioni gialle e poi con un certificato fra regioni di colore diverso Sono stati annunciati anche nuovi aiuti economici Inoltre il governo ha nominato 29 commissari straordinari per gestire 57 opere pubbliche Tra queste rientra anche la Fano Grosseto e colui che dovrà occuparsi di questa importante infrastruttura Sarà Massimo Simonini, amministratore delegato e direttore generale di ANAS Altra buona notizia per le Marche è che, come da decreto e visto il calo di contagio e ricoveri Si conferma la zona arancione per la prossima settimana Sono sei decessi legati al coronavirus che si sono verificati nelle Marche nelle ultime 24 ore Tra le vittime ci sono anche due persone residenti nella provincia pesarese Tra le nuove diagnosi sono stati invece rilevati 326 positivi La provincia più colpita è quella di Pesor Urbino con 91 casi Anche oggi si registra un netto calo di ricoveri Negli ospedali della regione ci sono 32 pazienti in meno rispetto a ieri Quelli in terapia intensiva scendono a 108 Mentre in semi intensiva a 171 Finalmente partiamo con i cantieri E' soddisfatto l'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli per la nomina dei commissari straordinari Massimo Simonini, Fulvio Soccodato e Vincenzo Macello Rispettivamente per la Fano Grosseto, la SS4 Salaria E in campo ferroviario la Orte Falconara I commissari, spiega Baldelli, potranno velocizzare le pratiche riducendo i tempi burocratici In pratica i commissari potranno assumere ogni decisione per l'avvio o la persecuzione dei lavori Provvedendo anche all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati Da parte della regione, a concluso l'assessore, ci sarà la massima disponibilità a collaborare La cronaca, c'erano anche assegni e coppia di bonifici bancari Nell'appartamento che i carabinieri di Fano hanno perquisito nel corso di una operazione antidroga Quattro le persone arrestate I carabinieri di Fano hanno arrestato quattro persone residenti tra Mondolfo e Trecastelli Si tratta di tre italiani e un albanese A loro carico l'accusa è di detenzione e spaccio di droga Nella prima operazione dei carabinieri a finire in manette sono stati due mondolfesi Di 24 e 20 anni Entrambi sono stati bloccati dai militari a bordo di una Renault Clio Al termine di un inseguimento fino al centro abitato di Marotta Erano stati sorpresi a cedere una dose di cocaina a un giovane tossicodipendente del posto Il 24enne aveva con sé altre dosi pronti per lo spaccio e un cospicuo quantitativo di denaro Gli altri due arresti sono il frutto di un attento monitoraggio da parte dei militari di Fano e Marotta Nei pressi di un'abitazione di un albanese di 33 anni a Trecastelli L'operazione in questo caso è scattata quando dall'appartamento è sceso un 45enne di Marotta I carabinieri anche in questo caso dopo aver tentato inutilmente di fermarlo Hanno dovuto inseguirlo in auto fino al centro di Marotta prima di ammanettarlo Durante la fuga a bordo di una Fiat Punto L'uomo ha tentato di disfarsi di un involucro contenente 5 grammi di cocaina Gettandolo dal finestrino Nel corso di due perquisizioni domiciliari sono spuntati fuori altri 150 grammi di cocaina 5.000 euro in contanti, assegni e copia di bonifici bancari Per oltre 10.000 euro a favore dell'albanese Che visto la gravità dei fatti è l'unico che la procura di Ancona ha deciso di tenere in carcere Proseguono i lavori di asfaltatura lungo la superstrada Fano Grosseto Oggi il consigliere regionale Giacomo Rossi che ha seguito la vicenda Ha fatto sapere che nel pomeriggio è stato ultimato il tratto Bellocchi-Lucrezia Da lunedì prossimo invece per massimo due o tre giorni sarà completato anche il tratto Lucrezia-Calcinelli Al termine dell'intervento verrà ripristinato il limite dei 110 km orari Adesso torniamo a parlare dei tamponi nelle scuole di Pesero Perché nonostante i falsi positivi e i pochi alunni contagiati Il sindaco esalta l'efficacia dell'operazione Abbiamo le scuole più sicure d'Italia, ha detto Matteo Ricci Assicurando che la prossima settimana continuerà il monitoraggio Angelica Panzieri Non fa passi indietro il sindaco di Pesero Matteo Ricci Lo screening Scuole Sicure, il terzo avviato dal comune dopo quelli di febbraio e marzo Continuerà anche la prossima settimana in tutti gli istituti superiori della città Che per il 50% di studenti sarà in didattica in presenza I falsi positivi scovati gli scorsi giorni che avevano sorpreso anche il personale scolastico I genitori non sembrano essere un problema per l'amministrazione comunale Decisa a proseguire con quell'operazione che lo stesso primo cittadino ad oggi ritiene essere la più sicura Oltre 3.600 ragazzi già tamponati, 10 positivi E la prossima settimana, martedì e mercoledì se non sbaglio Ci sarà il secondo turno alle scuole superiori Una grande operazione di massa che ci fa dire che oggi Pesero ci sono le scuole più sicure d'Italia Ovviamente la sicurezza totale non ci può essere Ma aver controllato tutti questi ragazzi per noi è un grandissimo risultato E invito anche la prossima settimana ad aderire E poi i positivi ci dimostrano che tutto sommato la scuola è un luogo sicuro Anche se non avessimo individuato quei 10 positivi probabilmente sarebbero diventati 100 Forse di più Quindi dimostra l'efficacia di questo strumento Del resto non abbiamo alternative I ragazzi non verranno vaccinati prima della fine dell'anno scolastico Alcuni non verranno vaccinati affatto Se vogliamo, come anche ieri il Governo ha dichiarato Garantire la scuola in presenza il più possibile Fino alla fine dell'anno scolastico C'è solo uno strumento per poterlo fare Quello di controllarli con screening il più possibile periodici E non ci aspettavamo che l'Asur ci mettesse tutto questo tempo Per darci l'esito dei molecolari Ogni screening con i tamponi veloci ha bisogno della conferma del molecolare E quando abbiamo visto nelle scuole medie che passavano 4 a volte 5 giorni Abbiamo cambiato strada Del resto ormai paghiamo tutto noi Paghiamo i tamponi, paghiamo i medici Paghiamo gli infermieri Mila giustamente dice Andiamo a un laboratorio privato e paghiamo anche il molecolare E adesso dalle scuole superiori il molecolare arriva in 24 ore E quindi un positivo del tampone veloce Viene subito nell'arco di 24 ore la risposta con il molecolare Nel frattempo il comune lancia anche il bonus palestra Per aiutare concretamente una delle realtà più colpite dalla pandemia A patto che abbiano la propria sede operativa a Pesaro Abbiamo deciso con Mila di fare un'azione specifica sulle palestre Fino a 1500 euro a palestra a fondo perduto E fino a 1500 euro a palestra per le spese che servono a riaprire in sicurezza Sanificatori, gel, termoscanner E tamponi che vogliono utilizzare per i propri clienti o per i propri lavoratori Il contributo andrà in base alla grandezza della palestra Perché ci immaginiamo che più è grande la palestra Più sono le spese Non solo palestre ma anche scuole di danza Corsi di yoga Tutte quelle attività personal Tutte quelle attività che sono state chiuse per tanti mesi E che spero da maggio possano riaprire anche indoor e non solo all'esterno Il bando sarà caricato nell'albo pretorio del sito del comune Mercoledì 21 aprile E le domande dovranno essere presentate a partire da quella data Entro le 12 del 28 aprile Inviando una mail a comune.pesero.chiocciolaemarche.it I contributi saranno due Uno fino a 1500 euro a fondo perduto E quell'altro sempre di 1500 euro Per tutte quelle che sono le spese sanitarie DP, tutto quello che serve per adeguare la palestra o il centro personal in sicurezza Si potranno rendicontare anche le spese già sostenute Perché ricordo insomma che già a settembre molte realtà si sono dovute adeguare Quindi è giusto riconoscere anche quelle spese che erano già state sostenute da tutte le attività E poi anche quest'anno il comune rimetterà a disposizione delle palestre Gli spazi verdi per fare attività fisica all'aperto Il comune di Fano torna a sistemare l'organico, il personale E tornerà anche ad assumere 12 persone tra cui 6 vigili urbani, 2 insegnanti di scuola materna 3 educatrici di asilo nido e una figura per il coordinamento didattico Ovviamente tutto questo attraverso 4 concorsi pubblici E la novità è che gli esami che dovranno sostenere i candidati saranno online da casa Esami scritti, tutto questo anche per far sì che le persone eventualmente positive al covid Possano partecipare a questi concorsi Anche il comune di Fano si rinnova utilizzando la tecnologia Per superire la carenza di organico in diversi settori dell'amministrazione Partiranno a breve i concorsi pubblici per assumere personale in 4 categorie Si cercano 6 agenti di polizia locale, 2 insegnanti di scuola materna 3 educatrici di asilo nido e una persona per il coordinamento didattico L'obiettivo sarà quello di realizzare una graduatoria che avrà una validità di 2 anni Per i vigili urbani, per i quali sono previsti sia contratti a tempo indeterminato che stagionali L'obiettivo con il tempo sarà quello di arrivare ad un agento ogni 100.000 abitanti E dunque 60 in totale Per il mondo della scuola, invece, soltanto a settembre In base all'assegnazione delle classi ai vari insegnanti Si potrà determinare il numero esatto di assunzioni Quindi al momento questi sono indicativi Ciò che cambia però sarà la modalità di svolgimento Perché il Comune ha deciso di passare ad un regime digitalizzato Attraverso il cosiddetto proctoring La prima prova, quella scritta, si svolgerà in via telematica Questo consentirà anche alle persone positiva al Covid Di sostenere l'esame da casa Ci si aspetta una partecipazione di 600-800 candidati Per il settore dei servizi educativi Perciò verranno organizzate più sessioni Ognuna da 130 o 140 iscritti I quali dovranno attivare sia la telecamera del PC Sia quella del cellulare Da posizionare alle loro spalle Dunque impossibile copiare o sbirciare nei bigliettini Anche perché scenderanno in campo diversi assistenti Ciascuno dei quali dovrà seguire Attraverso le immagini delle telecamere Dai 13 ai 15 candidati Al contrario, le prove orali E quelle di doneità fisica Nel caso degli aspiranti vigili Si svolgeranno in presenza Il costo della ditta che seguirà l'operazione Sarà di circa 35.000 euro Una cifra che sarebbe comunque uscita Dalle casse comunali Utilizzando i vecchi metodi Ci saranno 15 giorni di tempo Nel momento in cui sarà pubblicata in gazzetta Questa procedura concorsuale Per chi vuole partecipare E diciamo candidarsi A farlo attraverso una procedura digitale Quindi sarà necessario avere la PEC E una identità digitale Dopodiché ci sono una serie di requisiti Che verranno comunicati puntualmente Per poter capire Quali sono le categorie E i profili Che potranno comunque fare richiesta Avevano fatto discutere Le nuove panchine Posizionate lungo il molo In zona mare a Fano Perché fredde Durante la stagione Le basse temperature Ebbene L'amministrazione comunale di Fano È intervenuta Installando delle listelle in legno Sopra le sedute E dunque vediamo qual è il risultato Con Filippo Pucci Se c'è un argomento Che nella città di Fano Ha fatto discutere più di altri Negli ultimi anni È sicuramente quello Che riguarda le panchine Lungo il molo Tra il Lido e l'Arzilla Oggetto di molti dibattiti social E anche di vignette ironiche In questi giorni L'amministrazione fanese È intervenuta Per ricoprire le otto sedute Con un particolare legno pregiato Ho chiesto di fare un rivestimento Di quello che la seduta Aveva dei problemi di freddezza Per cui l'abbiamo migliorata Con delle listelle di legno Di rocco Che è il materiale Naturalmente il legno più pregiato Che c'è in assoluto Che è lo stesso Dello schienale È un legno che ad oggi Assume un colore più chiaro Ma naturalmente muterà E diventerà uniforme Allo schienale Con l'esposizione al sole Nel giro dei prossimi giorni Invece Brunori fa sapere Che verranno sistemate Le parti ammalorate del molo Dove sono tuttora presenti Buchi e avvallamenti Per poi Il prossimo anno Intervenire con un progetto Più ambizioso Con una vera e propria Riqualificazione Altri interventi Proseguiranno nei prossimi mesi Continuano quelli che sono I lavori di illuminazione Della cavea Penso che i primi di maggio Saremo proprio accesi E anche lì Metterò le stesse panchine Che sono posizionate in questo molo Nel senso che ne abbiamo altri In magazzino Che ho fatto Naturalmente Modificare anche quelle Oltre questo Entro giugno Dovremo anche Riqualificare il sottopasso Con la collaborazione Di un istituto scolastico Che Incrociando le dita Salvo cambiamenti Covid Dovrebbe procedere Portarci Insomma L'inaugurazione Trasporto eccezionale A Pesaro Invece Dove sono arrivate Le travi Che andranno A coprire Il vecchio Palazzetto Dello sport La struttura Da 1900 posti A sedere Avrà un nuovo tetto Entro la fine del mese La città di Pesaro Avrà presto Un nuovo palazzetto Lo stesso Che a fine agosto Spiterà L'ultimo evento In programma Del Rossini Opera Festival Si tratta Del vecchio palace Di via Marconi Punto di riferimento Per la cittadinanza Che d'ora in poi Accoglierà Non solo eventi sportivi Ma anche concerti I lavori Stanno procedendo Speditamente E dentro fine mese La struttura Avrà il suo nuovo tetto Come spiega Di fronte alle telecamere Di Fano TV L'assessore alle opere pubbliche Enzo Belloni Il vecchio palazzo Dello sport È un asse strategico Tra il lungomare E il centro storico La GM Ha chiesto Anche la deroga Per lavorare Fino alle 24 Quindi Stanno mettendo Grande energia Perché il nostro obiettivo È quello Di riuscire Ad avere Il concerto Di chiusura Del Rossi Del 22 agosto All'interno Insomma Del vecchio Nuovo Palazzo dello sport I giorni scorsi È arrivata La copertura Nel frattempo Le squadre Lavoreranno sia sopra Che sotto Perché Ovviamente I giorni lavorativi Non sono tanti L'impegno invece È molto pressante Una struttura Che sarà destinata Ad ospitare Altri eventi Oltre a quello Del Rossi È chiaro Che una struttura Come questa Ha una valenza Dal punto di vista Culturale Dal punto di vista La convenistica Oltre che Dal punto di vista Sportivo Noi abbiamo Tanti eventi Sportivi Adesso Finita la pandemia Ci auguriamo Insomma Che riparta Tutto Forte Come era prima Nei mesi di aprile Di maggio Di settembre Quindi Possono Convivere Tranquillamente È un'arena Da 1900 posti Circa sedere Quindi Che può ospitare Anche i famosi Concerti Non da 10.000 Che si fanno Alla vitifrigo arena E quindi È una struttura Intermedia Tra il teatro Rossini Che è un salotto Di grande eccellenza Con circa 800 posti Agli 11.000 posti Delle Della Adriatica arena Questo diventerà Un teatro Anche per 1900 persone Che è un target Insomma Dove ci sono Molti artisti Che Saranno In In grado Di essere Ospitati E con Le riaperture Abbiamo sentito Il premier Draghi Dal 26 Aprile Torna anche La voglia Di viaggiare E tornano Anche Le persone Che vogliono Organizzare I viaggi Di nozze Voglia Di spenseratezza E di vacanze Dopo le chiusure Il lockdown E il coprifuoco La speranza È quella Di poter Trascorrere Un'estate Caratterizzata Da una Vera Ripartenza Mare Montagno Collina Non ha Importanza Ciò che Conta E viaggiare O anche Semplicemente Poter organizzare Delle gite fuori porta Covid permettendo Mascherine Gel E distanze Ci faranno compagnia Ancora per un po' Ma inizia già L'attesa Per un nuovo viaggio Richieste ce ne sono Diciamo più in Italia Che all'estero Momentaneamente È conveniente Per notare adesso? Sì Adesso come adesso Ci sono molte Molte agevolazioni Senza considerare il fatto Che c'è la possibilità Con la maggior parte Di tour operator Di annullare Fino a sette giorni Prima della partenza Intanto l'Europa Annunciato per il primo giugno Il Green Pass Certificato verde digitale Un documento sanitario Comune a tutti gli stati membri Che funzionerà Tramite un'applicazione E servirà a dimostrare Che la persona Che viaggia È stata vaccinata Contro il Covid-19 Che ha fatto il tampone Con esito negativo O che ha contratto il virus Ed è guarita Negli ultimi sei mesi Gli ambasciatori hanno assicurato Che non si tratta Di un vero passaporto Nel rispetto Del principio Di non discriminazione In particolare Nei confronti Delle persone non vaccinate Che dovranno comunque Poter viaggiare Quali sono le destinazioni Che vanno per la maggiore? Per la maggiore Sicuramente l'Italia La richiesta Per quanto riguarda Il discorso Italia Perché comunque Si sentono più vicino a casa Anche per un eventuale Rientro di emergenza E per quanto riguarda L'estero E le crociere Sicuramente le crociere Sono le più richieste Perché attualmente Prevedono un protocollo Di sicurezza Molto ma molto Accertato Tra virgolette Dove prevede un tampone Prima di partire Uno a sorpresa Durante la settimana E uno prima di scendere Dalla crociera Quindi una volta saliti a bordo Se una bolla protetta E poi il discorso Della quarantena Esatto La quarantena Attualmente Per quanto riguarda La crociera O l'Italia Naturalmente non è prevista Dall'estero Sì Quindi è un po' Difficile riuscire A programmare Un viaggio all'estero Sapendo che poi Devi fare 14 giorni Di quarantena E rientro Si programmano Anche viaggi di nozze? La richiesta C'è Perché comunque I matrimoni Complice Il fatto che l'anno scorso Molti non si sono più sposati E l'hanno spostata Quest'anno L'idea c'è Le richieste ci sono Anche per viaggi da sogno Come si facevano Due anni fa Prima del covid E da vedere Se riusciamo a farli E poi vi aspettate I numeri degli anni scorsi? Meglio dell'anno scorso Di sicuro Speriamo Di più Cioè vogliamo viaggiare? Sì Anche noi stessi Che siamo nel settore Non vedi allora Di poter ripartire Cioè l'idea Di riprendere un aereo Sembra un sogno Quasi Per chi resta Fano Invece Vediamo il calendario Degli eventi Cambia la veste grafica Ma non la formula Fano è in plein air Con lo slogan Vivi la tua estate all'aperto Il comune di Fano Ha presentato Il programma Degli eventi estivi Tra conferme e novità Con la parte esperienziale A causa della pandemia Cambieranno le modalità Di svolgimento Ma l'obiettivo Ha affermato il primo cittadino È quello di dare un segnale Di ripresa E uno strumento A favore degli operatori Che hanno sofferto La crisi economica E sanitaria Da passaggi festival A giugno Al fanogezze Al palio delle contrade a luglio Dal carnevale Chiamato estatico ad agosto Fino al brodetto fest A settembre Sono decine Le manifestazioni in programma Le quali andranno Ad aggiungersi Altre iniziative Di promozione della città Il calendario completo Verrà presentato poi Il prossimo mese Non compare al momento La fano dei Cesari Ma l'assessore Lucarelli Assicura Stiamo pensando Ad alcune attività Dedicate al tema Soddisfatto Dell'anteprima Il sindaco Massimo Seri E anche in un momento Difficile come questo Non vedo in giro Città che hanno già presentato Il programma Degli eventi di promozione Per l'estate Noi lo abbiamo fatto Siamo pronti Stiamo già promuovendo La città Ci siamo assunti Degli impegni determinati Però siamo pronti Per quest'estate Dove pensiamo Che tanta gente Verrà Per poter fare Tante cose In sicurezza Garantendo anche Le condizioni Di questo periodo Nel manifesto Che vuole rendere omaggio Al trentennale Della Fano Città delle Bambine E dei Bambini Compare anche La nuova parte Dedicata all'Affano Da Vivere Studiata grazie agli input Suggeriti dall'esperto Joseph Ejark La nostra città È sicura Ed è la destinazione giusta Dichiarato Lucarelli E dobbiamo puntare Sulla promozione Per far ripartire L'economia L'assessore Poi ha descritto Il nuovo manifesto D'autore Realizzato Dalla fanise Rebecca Lisotta Già illustratrice Del film d'animazione La gabbianella E il gatto Una grafica molto bella Che rappresenta Questi bambini Che sono all'interno Della storia Della nostra città Che portano nei capelli Proprio il blu del mare E il verde Delle nostre colline Che sono anche Le caratteristiche Che emergono Dal nostro piano La realtà È che vogliamo ancora Investire nella cultura Ma con la cultura Creare veramente Un volano economico Una vera novità Data dal programma Sono le esperienze Sappiamo che Le attività esperienziali Oggi funzionano Tanto Quindi ci sarà Una lista Di vere e proprie Esperienze Per toccare con mano Le caratteristiche Della nostra città Dalla visita Alle nostre realtà Archeologiche I nostri siti archeologici Alla possibilità Di andare a degustare Vino Oppure degustare Il brodetto Oppure lanciarci Col paracadute O vivere ad esempio Con una barca a vela Le bellezze Del nostro mare Quindi una serie Di esperienze Semplicemente Prenotabili E pronte Che ci danno Un carattere In più Quindi vogliamo essere Innovativi Anche in questo Saranno assegnati a Roberto Vecchioni Cesare Cremonini Al giornalista Amet Altan Liberato qualche giorno fa Dalle prigioni turche I premi di passaggi festival Della saggistica di Fano Per il 2021 Riconoscimenti al valore Alla forza della parola Fanno sapere gli organizzatori A Vecchioni Andrà il premio passaggi A Cesare Cremonini Il premio fuori passaggi E a Atem Altan La cui presenza però È ancora un'incognita Il premio Andrea Barbato Vecchioni Ritirerà il premio passaggi Il 23 giugno Il giorno prima Toccherà a Cesare Cremonini Anche lui Cantautore e scrittore Adesso L'album di Fano TV Con gli auguri A Mirella Renzoni E Aurelio Pierpaoli Residenti a Fano Che oggi festeggiano 60 anni di matrimonio Dunque le nozze di Diamante Lunedì sera Torna Primo Cittadino L'ospite sarà Il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri Mentre tra poco Le previsioni del tempo E poi La conferenza stampa Del premier Mario Draghi Con il ministro Alla salute Speranza Sulle riaperture Dal prossimo 26 aprile L'informazione torna invece Domani mattina alle 7 Con Occhio e giornale Arrivederci Arrivederci Le previsioni del tempo Le previsioni del tempo